Siamo qua riuniti a tutta una bulletta, è una serata triste questa, perché manca il nostro amico Frambo. Siamo qua con Bando, Bomba, un saluto, Kiko e Popa. Ciao ragazzi! Proveremo a condurre lo stesso, senza il nostro carissimo, illustrissimo Frambo. Ciao a tutti, questo è il venerdì di Radio Etilica. Ciao a tutti, ciao Bando! Ciao a tutti! Allora, proviamo anche questo venerdì a guadagnare i nostri soldi, o no? Allora, ci proviamo, però io devo dire che questa settimana ho finito il budget sulla mia app delle scommesse. Eh, ma il turno infosettimanale solitamente è arcigno. Mi ha fregato il Napoli sto giro. Fregato, così. In effetti impronosticabile una partita del genere. No, è incredibile, ma tutte le squadre ultime in classifica ne sono andate a vincere, a sbancare, a Roma con la Lazio, l'Empoli con il Napoli. No, è incredibile. Cioè, è una roba... Eh, romani comunque siamo nella parte dei campionati dove nessuno può più regalare nulla, quindi assolutamente si va là con il coltello fra i denti e si combatte. Si dimentica il Frosinone. Frosinone cosa ha fatto? Ha giocato il Frosinone stasera? Ha già rimosso Luca, secondo me. Per me una partita che finisce il 104esimo non ha senso di essere commentata. Avevamo detto una cosa però, in questo programma abbiamo tolto le fastidiosità del caso, non ci sono tifosi. No, no, ma io non sono tifoso del Frosinone e non volevo parlarne. Va bene, anche in questo caso lo parleremo perché io non ho seguito la partita, il cellulare continua ad andare avanti, aggiornare. Dipende come è, non vorrai impostare la puntata. E poi è arrivata la gioia finale, anno va nel 14esimo però... Vero, gran gioia finale devo dire, Chico. Se partiamo con gioia finale io me ne vado. No, 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 stavo dicendo gioia finale... Partiamo subito con il nostro, diciamo, tallone d'Achille, la serie B. Per me è sempre impronosticabile questa cosa. Tipo il Palermo che è andato a perdere col Pescara nel recupero. Lecce invece che batte Cosenza e diciamo si porta nella parte non altissima, di più, nelle prime due della classifica. Ora abbiamo dei match interessanti, Luca, questo weekend per la nostra serie B. Allora, è interessante un parolone, però io partirei da Carpi-Padova perché il Carpi si gioca l'ultima chance per salvarsi. Ok, non ci sono alternative di formazione, ci sono 22 punti, zona play-out, tutti i pretesti che possono far pensare a una bella partita. Quindi il mio pronostico per questa partita, ricordo appunto, Carpi-Padova è un X2. Ma baffanculo, va! Proprio perché le chance per salvarsi non le giocherà bene. Era il Frambo, il suo veloce si umilia. Si brava proprio lui, anzi, è chiaro che andrà a perdere sicuramente, però è giusto provarci. Anche perché io sono per le scommesse quelle più facili, questo è un X2 a quota 1,43. Quindi messa in una schedina con... Grazie, grazie, è il mio popolo. Messa in una schedina con delle altre partite di uguale difficoltà si può portare a casa qualcosa, secondo me. Dici benissimo. Segniamo allora, bando. Segniamo? Chico, pensi tu a segnare? Sì, guarda. Prima. Vai. Enno, vai. Altro match, questo, diciamo, delicato, direi Palermo-Verona. Altissima zona. Eh sì, terza contro quarta. Esatto, per cui secondo me, dopo aver perso con il Pescara, questo Palermo deve assolutamente rifarsi. Io poi gioca in casa. In casa il Palermo non può perdere, se no rischia di farsi sfuggire, diciamo, il campionato. Perché secondo me ci crede molto arrivare nelle prime due. Io ho visto la partita del Palermo, però li ho visti in difficoltà. Erano in vantaggio, rimontati. Hai visto la partita del Palermo. Adesso ci scrivi perché hai guardato il Palermo. La partita è impronosticabile dove le quote sono alte a qualsiasi cosa che fai, quota alta. Per me, due. Questa partita. 3,80, picco. 3,80. Custica. Io mi giocherei, se avessi gli ultimi 40 euro da buttare nel mio conto a Eurobet, li butterei sul Palermo a 2,10. Cifre a caso, eh? Non perché avevo gli ultimi 40 io. No, no, non è per te. L'hai buttata lì un 40. Ma certamente. Te butteresti 40 euro sul 2? No, sul 1. Ah, sul 1. Io sul 2, invece. Sul 2. Segniamo, Kikko. Segniamo il Milan. Perché non racconti com'è andata la settimana scorsa? Ma perché non c'è Luca Menichelli che può confermare come stavo male in quel momento. Poi a Serie A ci arriveremo anche. Sì, ma infatti, un passo alla volta. Allora, altra partita, secondo me, invece, che non è scontata, è Brescia-Venezia. Perché il Venezia, secondo me, ha bisogno, non di fare punti, di più. Dopo vari cambi di allenatore, questo Venezia deve rifarsi. Però gioca contro la capolista in classifica. Questo Brescia che rulla qualsiasi cosa si trova davanti. Io proverai a mettere un X. Abbinato magari a un qualche gol. Quota di? E la Madonna. 4 e 15. È una bella quota. Cioè, non c'è niente. C'è 4 e 15 da azzeccare. Quasi un testa-coda. Il Brescia è proprio tra bibliotecare, quasi matematica, promozionina. Quindi non so se si lascerà sfuggire quest'occasione. Però un X gli va male. Cioè, nel senso, fondamentalmente, il Brescia-Dai. Ah, già un... Il Brescia-Dai ci... Un bel rullo compressore, il Brescia. In Venezia... Comunque, prossima partita che volevo analizzare io, invece, è il Cittadella-Livorno. Il Cittadella vuole agganciare... Dimmi, caro. Dov'è Cittadella? Cittadella ci sono state qua vicino. Sono andato a vedere la promozione in Serie A del Parma. Uno spareggio... Insomma, è lì, dai. Il Cittadella vuole agganciare un posto nei play-off. E i tre pareggi di file che lo hanno rallentato la corsa verso l'alto dei Veneti, Roberto Venturano. Cosa ho detto? Martedì scorso è arrivato il pareggio 1-1 in rimonto contro il Venezia. Bomba, vuoi dire qualcosa? È il Veneto. Vanno, grazie per il tuo pensiero. Comunque, il mio pronostico è un 1 fisso, a 1,80. Signore, il Cittadella è o non è una squadra che può vincere? Eh, no. Secondo me il Cittadella... Aspetta, chiedo l'aiuto da casa. Chico, può vincere secondo te il Cittadella? Contro chi gioca? Mi sono perso una... Livorno, Livorno. Sì, il Cittadella è fra le mura di casa, è sempre una squadra ostica. In frattempo ringrazio Gue che invece di farci vedere le quote si sta divertendo come un pupo utilizzando gli effetti di stupidità. Ah, eccoci qua. Allora, 1-1,82 come ho detto. Tu, Chico, cosa hai detto? Per me in casa il Cittadella è una squadra ostica. Imbattibile quasi. No, ma di più no, però ostica sì. Eh, non vai pure. Allora, la prossima, e potrebbe essere anche la conclusiva perché questa serie non mi entusiasma, andrei a analizzare questo quasi derby del sud Cosenza a Crotone. Qua secondo me si ammazzano, ma se le danno di santa ragione. Comunque a te guardi tutti gli scontri, terza contro quarta, tredicesima contro quattordicesima? Allora, dimmi un attimo le posizioni classifiche di Cosenza a Crotone perché... 13 contro 14. Perché ti dirò che io ho seguito la conferenza stampa della giornata di Crotone, l'altro giorno. Hai fatto bene. Lui è stato mandato via durante la stagione, se non sbaglio. Poi è stato richiamato e il Crotone è arrivato in zona play-off. Hans play-off perché era giù. No, allora, il Crotone... Il Crotone era giù però. Sì, sì, sì. Quando ti ero chiamato, lui ha portato di super, continui a dire calma, piedi per terra, una battaglia difficilissima, dobbiamo assolutamente fare punti, secondo lui non sono ancora salvi. Quindi... No, direi assolutamente di no, è sante parole. Il Crotone, secondo me, ha un tasso tecnico migliore del Cosenza. E quindi io vedo il Crotone vincito. Anch'io. Anch'io. Anch'io direi così. Arriva anche dalla vittoria contro il Perugia di Alessandro Nesta e li vedo molto lanciati. Ragazzi, la quota Crotone vincente è 3,65. Quindi la Serie B è sempre delle quote spaziali. 1x2 fisso è... Così, scommettibile. Scusa, è una roba. A parte super esperto Quelli, giusto se non sbaglio? No, Quelli è la Bundes. Amadasi. Amadasi possiamo chiamarlo? Abbiamo il contatto? Possiamo chiamarlo. Poi, poi, abbiamo chiamato. Chiamiamo l'Amado. Adesso mandiamo una canzone e poi vogliamo chiamarlo. Che canzone è un pezzo, un pezzo, un pezzo. Mandiamo soldi del Club Dogo. 50 anni, se signore di merda, non vorrei partire. Mi dedico a chiedere 2 e 3, voi siete una banda di pezzi di merda. Oltre che siete lo standa politico, qual è chi di voi? È chiaro, no? È chiaro, voi siete bene in merda o voi? Voi è una squadra di promozione, di dove parlate solo. Voi parlate solo. Voi, scusa, mi asciugno. Allora, esatto. Voi parlate solo. Voi parlate solo. Voi siete scansalosi. Voi siete vergognosi. Voi parlate. Voi camminate in mezza a fauna. Voi sono una squadra di promozione. Perché parecchi di voi non possono giocare nessuno di questa squadra. nemmeno uno con il nostro. Non è un male. Domani mi dà chi ora dovete arrivare a fare. Il primo che si ha giro sui figli di caccia. Ognuna squadra di promozione. Vergognatemi. Voi non siete negli. La squadra di promozione. Ecco, queste secondo me sono le parole che sono uscite dalla bocca di D'Aversa dopo il recupero con il frosinone. A parlare. No, D'Aversa è un uomo tutto d'un pezzo, non dice queste cose. Ah, dici Luca? No, no, D'Aversa avrà detto sicuramente. Ragazzi, testa, concentrazione, possiamo ancora farcela. È il nostro obiettivo alla salvezza. E tutte quelle cose lì. E poi ha avuto sfiga che aveva metà squadra fuori, ragazzi. Basta. Il frosinone è una bella squadra. In casa quanti non è l'interno. Il frosinone è quidone, quindi. Ah, ok. Un e basta contro di noi. Pazzesco. No, comunque il recupero di campionato direi non troppo insolito. A parte, come ci insegna il buone vecchio Luca, questo Empoli che batte il Napoli, il Parma che va a perdere con il frosinone. Però ci sono diverse partite interessanti questo weekend. Io ho individuato una sfida salvezza, Bologna-Chieo, difficilissima, secondo me, da pronosticare. Anche se, secondo me, io non sapevo cosa fare. Ho guardato il Bologna l'altra sera, che ne ha prese quattro dall'Atalanta. In un quarto d'ora. In un quarto d'ora. In un quarto d'ora. Però ho visto che il buone vecchio Sinisa non aspettava altro di fare la sfida con il Chieo. Ho tenuto tutti giù, tutti rifidati. Non ho detto niente. Era troppo calmo. Il Chievo, non so se è matematico, ma comunque era processo. Guarda, non lo so, però Chievo vincente è dato a 7,70. Contro il Bologna. Non è che stiamo parlando di... Secondo me il Chievo è impossibile che vinca. Poi, tipo Mijalovic, dopo delle partite così, solitamente tira fuori qualcosa dei suoi squadri. Però il Chievo vedo zero chance, totalmente. Però effettivamente il Bologna che ne prende quattro. Sì, ne fa uno con mezza gatta, tra l'altro, del portiere dell'Atalanta. Non so cosa vuole giocare te, però qui si potrebbe prospettare anche un qualche gol del Bologna. Anche più di uno, forse. Boh, dico io. Sì, sì, sicuramente. Secondo me è una partita con pochi gol. Io andrei di under e due e mezzo. Tutto farebbe, anch'io metterei un under. Però dopo la scottata presa con l'Atalanta, un bel over dato a 1,62. Giusto, però il Bologna studiato durante l'anno ha sempre fatto fatica a fare gol. È una squadra che non segna, continua a cambiare attaccante a punte centrali. C'è Santander, c'è a destra, forso lì. Non ci abbiamo ancora capito qual è la vera punta, il vero attacco di Bologna. Vero è che la difesa del Chievo fa ridere. Sì, ci vai pure. Guai, ricordati di alzare il fader della chiamata perché sta per arrivare un ospite in diretta radiofonica, telefonica e... Ecco qua, il nostro primo ospite, ragazzi. Ospite di un certo spessore. Chi è? Adesso penso lo riconoscerai dalla voce se risponde. Attendiamo con ansia. Sempre si risponde. Sì, pronto? Buonasera, Perry. Buonasera a voi. Un saluto a tutti gli amici di Radio Etilica. Ciao Luca, ciao Luca. Ciao Luca, ciao, ciao, grandissimo. Ciao Luca, ciao Luca. Ciao Perry, tutto bene? Ciao a tutti, ciao a tutti, ragazzi. Ne promette, mi dimentico. Cosa stai facendo di bello, Perry? Guarda, in questo momento sono sul divano. Oh bene, ti preparai per la serata. Sì, esatto, mi sto concentrando per stasera. Bravissimo, bravissimo. Ti stiamo interpellando per qualche pronostico, Perry, sul campionato di Serie A italiano. Perfetto, Enno, dimmi tutto. Allora, innanzitutto il tuo parma, cosa farà con il Torino? Ahia, ahia, ahia. Allora, a malincuore ti devo dire un parma Torino 2, ma proprio secco. Lo dici perché non vuoi fare il gufo o non sei veramente convinto? No, 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 guarda, io ne sono veramente convinto. Perry, guarda che zero punti dopo si inizia a rischiare grosse comunque. Eh no, ma Chico, lo so, è quello che penso anch'io, però con quella squadra qua vai poco lontano. Allora, io non penso che stiamo rischiando, Luca. Pure cago su questo letto! Eh, io invece Luca lo penso veramente tanto. Luca, ma ci bastano 5-6 punti, non li fai contro il Torino? Che non farai domani? No. Che domani non farai? No, neanche contro il Milan probabilmente, però dopo ci sono altre 5-6 partite che potremmo... Che potremmo... Eh, a questo punto io spero di fare dei punti con Chievo, Bologna e Sassuolo. Eh, cioè, dici che scusa la Samp per dire, no? In virtù del nostro gemellaggio tra i tifosi non ci può regalare un punticino o una... Eh, la Samp però deve lottare per andare... Eh, è vero che c'è anche la Samp. Eh, sì, ci si può pensare, può anche benissimo essere. La Samp però Perry sta lottando con i lunghi e quei denti per arrivare in Europa League. Non so se tipo vi regalerà punti così facilmente. Ma secondo me, la Samp adesso come è messa? Ci arriva in Europa League? Eh, non ci la gioca col Torino, ci lo dico il Torino. Ti dico subito la classifica, Luca, aggiornata. Allora, la Samp in questo momento è nonna in classifica con 45 punti e la zona Europa è a 48. Eh, ad oggi. Ah, beh, no, allora siamo lì. Beh, diciamo che se si deve giocare la zona Europa, punti non so quanti ce ne possa regalare. Secondo me ve li può regalare il Chievo, l'Eri, i punti e i Sassuolo, l'ultima giornata che ha già iniziato a vendere partite da... in gironi d'andate, il Sassuolo. Quindi secondo me... Però guarda, per come sto vedendo il Parma se ne intende. Pazzesco, Righi. Comunque, se vi devo dire della partita di domani, io vi dirai due. Ma proprio senza ombra di dubbio. Larry, ciao, sono Bomba. Ciao Bomba, dimmi tutto. Una domanda secca, ma potessi dare un consiglio ad Aversa a tu? Quale sarebbe l'arma segreta che gli faresti usare? Ma, eh, di armi segrete io non riesco a trovarne, sinceramente, perché le uniche armi che puoi avere sono infortunate, quindi adesso io non saprei cosa puoi fare. Così era segnato. Schiappacasse, no? No, schiappacasse, ragazzi, io vedendolo giocare non tocca una palla. Posso capire che si deve ambientare al campionato di Serie A, che non è assolutamente facile. Pensa chi la posa al fantacalcio. È stato dipinto come un potenziale fenomeno, per me è un bidone. Beh, ma non puoi però dire dopo due partite, anzi dopo una partita e dieci minuti di quella prima, dai, deve un attimo fare un po' di rodaggio. No, no, certo, certo. Il mio, però, è un giudizio personale che si può avverare. Ma c'è stato Parma Atalanta poco fa? No, non mi ricordo di parlare. Sì, c'è stato sabato e domenica scorsa. Ecco, perché sentivo sempre l'intervista pre-partita di Gasperini che diceva che aveva visto questo schiappacasse molto interessante e avrebbe costruito una gabbia intorno come faceva con Messi, no? Si vede che è vero, è vero. Quando è entrato ha modificato la difesa per... Si vede che ha funzionato, infatti, Gasperini è tentato tatticamente. No, ma l'Atalanta ci ha fatto giochicchiare un attimo e poi si è messa in moto e ciao. Vabbè, la squadra, quando gioca... No, no, vabbè, l'Atalanta è dell'individualità, ragazzi, che sono nettamente superiore alle nostre, ma non c'è nulla da dire. Hai fatto un gol su errore loro, poi dopo sono venuti fuori e è andata così. Ma ascoltate, non vogliamo cambiare squadra perché il Parma è interessante, però... Ne ho individuato altre partite per il nostro Perry e una di queste è Sampdoria-Roma, di cui stavamo parlando prima la Samp. La Roma va là con Claudione Rangieri nazionale, sta facendo schifo, cosa dici? Gioca una Genova. Eh, lo so, sì, l'anticipo del sabato sera. Per me è una vittoria della Sampdoria. Addirittura? Assolutamente, sì, 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 sì. Ma è la roba anche in questo momento è giù di corda, apparecchio. C'è Quagliarella che non segnala due partite, quindi... Eh, ma vedrai che si sblocca, si sblocca. Poi Luca, ti do un consiglio, giocalo, mettilo al fantacalcio questa giornata. Ah, guarda, pensavo di tenerlo in panchina, metterlo su Ciano, ma seguirò il tuo consiglio. Vabbè, quanto vuoi comunque Ciano? Ma Ciano contro la Fiorentina, in casa della Fiorentina? Eh, cosa dici? Meglio Quagliarella? No, no, ma metti Quagliarella, ma assolutamente, ma il gol te lo fa, a mio modesto parere. Ti dico solo che il signor Luca Bandini ha messo titolare Schiappacasse. Eh, beh, cosa dovevo fare, Luca, giocava a titolare. Però hai vinto, troppo. Io mi sarei cagato in mano. No, hai messo titolare Schiappacasse per questa giornata? Ed è riuscito a vincere. Esattamente. Quella che è appena finita. Ah, no, ok, ecco, meno male. E sei riuscito a vincere addirittura? Beh, a parte che comunque un azzardo di Schiappacasse col Frosinone ci può stare. Oh, finalmente qualcuno che capisce qualcosa. L'ho comprato, se non lo metto in campo titolare contro il Frosinone non lo metto mai più. O no? No, esatto. Ecco, adesso non metterlo più. Adesso non lo metterlo in cestina, l'avevo fatto. Non lo so, Luca, adesso probabilmente si fa la partita. L'ultima partita è quando festeggerà il Scudetto, che sarai già più 6, poi farò giocare. Parliamo di Serie A, non di Fanta Calcio. Comunque perdi, guarda, io sono con te perché Ranieri, che per me è un allenatore, insomma, normale, diciamo, perché mi sta sul vago. Quando ha perso il derby con la Lazio, ha detto, no, con chi? Con il Napoli, quando ha perso 4-1, in intervista post partita lui ha detto, io non so come abbiamo fatto a segnare. Questa intervista non l'ho sentita, ma posso essere d'accordo con lui. Mi hanno segnato il suo rigore, no, loro? No, 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 la Roma ha fatto un gol a caso. No, non ha fatto un gol sul rigore per Otti. Ah, sì, è vero. Ah, sì, è vero, però casualmente, perché hanno buttato una palla in mezzo a Gekko, l'ha steso. C'è Schumeret, non faceva. Sì, no, certo. Ma io quella partita lì l'ho vista, è stato un dominio netto del Napoli. L'allenatore che è arrivato lì facendo grandi proclami, un vincente, che è arrivato lì, non può dire, non so come abbiamo fatto a segnare. No, anche così, poverete, cioè, è come se avessi ridicolizzato. Eh, capito. O che beh, per dirti un pronostico, San Dori a Roma 1, assolutamente. Ci sta l'allenatore. E consiglio agli amici ascoltatori di giocarlo. Anch'io sono con te. E' un prossimo match? E' un match che vi riguarda molto da vicino. Due che arrivano dal culetto, Udinese e Empoli. Oppale. Ah, sì, partita. D'Inese e Empoli, ecco, questa è tosta. D'Inese e Empoli... Ma guarda, per me è uno, vince l'Udinese. Anche secondo me? Per me è partita con un gol, molti gol. Dici, molti gol? Sì, sì. Secondo me non ce ne saranno tanti, invece. Difese allegre, un po' provano a fare gol, secondo me, sì. Un bel pareggione di Poguola. Magari, magari, un bel pareggione sarebbe... Ci metteresti la firma, Luca, però, per un pareggio? Eh, beh, assolutamente sì. Pareggione sarebbe l'ideale. Però, per essere sincero, per quello che penso io, l'Udinese la porta a casa. Quindi l'Empoli, galvanizzata dalla vittoria col Napoli, non riesce a vincere anche questa, no? No. Anche perché, secondo me, Tudor ha dato una bella scossa all'Udinese. E fa tempo saluto a Davide. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao papà. Ci sentiamo dopo. Ciao Perry. Saluta popà. Ciao, ciao. Ciao papà. Ciao Perry. Hai ragione, anche secondo me Udinese vince. Cioè, deve riuscire a vincere. Io spererei nel pareggio, ripeto, però, con il cuore da sbullettatore, dico metterei uno. Che, tra l'altro, è dato a 2,35. Sì, sì, no, ma vabbè, ma a quanto è dato, Luca? 2,35, Luca. Eh, porco cane, no, l'ora è assolutamente uno, cioè, senza un bar di dubbio. Prossima partita, Enno? Ti chiedo un'altra partita, Perry, e questa qua è sempre, secondo me, una difficoltà incredibile. Cagliarispal. Cagliarispal? Cagliarispal, ma un... ti dico un X. Un 1-1. 3,05 è la quota, Luca. Sono pazzesco. Dell'X? Sì. X, 3,05. Goloso. Invece, la vittoria del Cagliari, puoi dirmi? La vittoria del Cagliari è data a 2,20. Perché fra le mura... Eh, anche la vittoria del Cagliari è tanto, eh. Si fa sempre fatica a vincere la Sant'Elia. Anche la Juve ha fatto fatica a chi? No, tra l'altro si chiama Sardinia Stadium. Ah, è vero. No, vabbè, Cagliarispal, guarda, io la punterai su un pareggio. Mi piace, mi piace. Cioè, ci piace. A noi sbullettatori che vogliamo fare soldi facili con delle quote alte è impossibile da prendere. Sono le nostre partite queste, no? Poi, Luca, la tua schedina, se mettiamo tutte le partite nella stessa schedina, è impossibile vincerla proprio. Però, siccome è con 2 euro... Beh, in realtà magari questa, l'X di Cagliarispal può essere difficile, degli altri possono benissimo accadere. Ah, sì, no, ma infatti si dice spesso. Qui, per perdi, sono tutte partite tratto secche, non Anderola. No, giusto. Luca, l'idea è chiara. No, no, io l'idea è molto chiara. E vedrete che poi mi darete ragione. Ma guarda, io, Kiko sta segnando tutto. Quindi una volta che, a fine serata, riprenderemo in mano il foglietto e, a mente lucida, analizziamo le schedine, potremmo... A fine serata e a mente lucida non vanno troppo d'accordo. Hai ragione, Bob. Ah, non si chiama Radio Acqua Naturale, questa? Allora, ci risentiamo, direi, lunedì. Lunedì ci risentiamo per vedersi, indovinato o meno, le tue partite. Va bene, va bene, dai. Eh, non è un altro da chiedere a Luca? No, io voglio fare solo una prova prima di salutare il nostro vecchio Luca. Io vorrei uscire da qua, o domani mattina così, con una piletta di soldi, un rotolino, e andarli a buttare su un risultato esatto di Juve e Milan. Oppala! Cosa mi dici? Bailarri spara. Ah, il risultato esatto di Juve e Milan. Sì, per forza. Allora, allora, 2-0. Eh, 2-0. 2-0 di cui un gol lo fa Mandzukic. Ah, 0-2 allora. Ah, è Milan-Juve? È Milan. No, è Juve-Milan. Massimo è Torino, sì. Torino gioco a noi. Sì, 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 è Juve-Milan. Secondo me, invece, è un X grosso come una casa. Dici? X grosso come una casa. Juve-Milan. Ma non penso, Luca, va. Torna a colpire il pistolero. Ma non lo so se è un X con gol o un X senza gol, però... Pistolero si chiede in panche questo giro. Dirittura? No, per me. Ah. No, secondo me è un X. Ler, io invece ho un'ultimissima cosa da chiederti. Vai, vai, Kikko, dimmi tutto. Il pronostico della Cacillo per domani. Bella questa domanda. Allora... Ah, domani purtroppo dovrò mancare l'appuntamento della Cacillo. Volevo e sciarci. Eh, ragazzi, gioca il Parma in casa. È giusto. Ma Luca, non lo so, ma le vendono le birrette a Tardini? Sì, certo. Te le versa nel bicchiere. Ah, sì? Ah, sì? Sì. Non l'avrei mai detto. Sì, sì, no, le vendono. Comunque il pronostico per la Cacillo di domani, io col cuore spero in una vittoria della Cacillo. Eh, ma... E sono convinto... Ed anzi, no. Mettendo da parte il cuore, sono convinto di una vittoria della Cacillo. Oh, questo voleva sentirti dire, Luca. Una bella gufata. Ma no, dai, ragazzi. Scusa, come era? Dove che ci abbiamo già giocato contro lo schiaffino? Com'è? Eh, lo schiaffino, dopo, io non ti rispondo, aspettando la prossima telefonata che avremo in diretta radiofonica il presidente della Cacillo, Andrea Bonaccini, che ci farà lui un'analisi tecnico-tattica dello schiaffino. Va bene, va bene. Allora, comunque, io sono convinto, cioè, ti dico Vittorio della Cacillo, ragazzi. Va bene, Luca, buona serata, non bere tanto stasera, mi raccomando, ma so che tanto, come al solito... Eh, non so, non so se seguirò il tuo consiglio, Luca. L'hai detto, per cui ci sta. Grazie mille per me. Ti guarda, grazie a voi. Ciao, ragazzi, buon proseguimento. Ciao, 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 ciao. Bel personaggio, Luca, il Perry Poli, eh. Bellissimo. Ora ascoltiamoci un bellissimo pezzo di Julian Cope. Oppala, così proprio, Julian Cope. Eccoci qua, ragazzi, di ritorno da una incredibile commentata sulla Serie A. Ora stiamo provando a sentire un nostro ospite, molto, molto, molto informato sui fatti, un ospite Juventino e Cacillo. Vediamo se ci risponde, perché può darsi che sia a tavola in questo momento. Ama molto il cibo, questo ragazzo. Non nutro troppo speranza. Eh, secondo me non risponde il tuo... Anche secondo me. Non dico il nome, perché non voglio svelare. Vodafone. Eh, però proviamo a chiamarlo dopo. Chiamiamo il capo. Ma vaffanculo, va. Ci ha appena mandato a fancurga. Proviamo a chiamare il capo. Allora, un attimo, intanto con il capo parleremo di che campionato? Direi Bundesliga. La Bundesliga. Signori esperti e fan della Bundesliga, non potete perdervi il prossimo step di scommesse. Ting! Ciao Bomba, nel frattempo un altro della grande famiglia di Radio Etilica se ne va. Ce ne diamo dopo, Bomboni. Ciao, Bombon. Wind. No, vabbè. Stiamo trasferendo la sua chiamata all'integro di mio telefono. Questo è alto tradimento. Ma vaffanculo, va. Alto tradimento. Figano, abbiamo sulle spalle il pesante fardello della Bundes da soli. Ma incredibile. Io comunque ce li puoi, perché hai detto che rispondevo. Eh, ma se il capo non risponde... No, ma che c'è stile, avevo fame. Sicuramente starà gustando una birra belga. Ah, 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 ah. Frambo! Pubblico di Radio Etilica. Anch'io amo molto il cibo, ma vi rispondo comunque. Il tuo pubblico, Frambo, il tuo pubblico. Il tuo, Frambo. Come state, ragazzi? Vedo che è andato la dio. Io volevo farvi complimenti per le telefonate corte innanzitutto, ma soprattutto un avviso per la direzione. Mi ha chiamato il ragazzo che ha il copyright del suono con le sirene. Gli dobbiamo dare un euro ogni volta che viene schiacciato tanto. No, ma il problema è, Frambo, che è lo stesso ragazzo che detiene il copyright, che sta mettendo le trombette. Quindi si sta arricchendo. Guarda, guarda quanta grana che sta... Esatto. Un sorriso. Esatto. Più schiaccia, più cresce il cash. Sì, sì, sì. Mamma mia. Frambo, dove sei? Sono in una vanda desolata, ma penso sempre a voi, penso sempre ai bulletti e ho escositato un sistemino. Per questa settimana un moltiplicatore a 38,3. Non è male, giusto? Vai, Frambo, vogliamo sapere tutto. Tutto e di più. Allora, stai attento. Sì. Ho sfogliato per bene, ho guardato bene tutti i campionati, ho studiato le classifiche bene, anche da dire che in Inghilterra la lotta per la qualificazione Champions, anche la lotta per vincere il campionato, sono veramente appassionanti, non come in Italia, dove succede qualcosa, sì e no. In Inghilterra molto, molto bene. Beh, sì, anche gli anni scorsi in Inghilterra si è abituati a vedere dei campionati stravolgenti, cioè il Leicester in avanti, tutto il Liverpool, il City, le squadre che... Mai scontate, esatto. La vittoria. Esattamente, quindi ti propongo una partita molto interessante che è Huddersfield Town contro Leicester City. Oppala, non vorrei mica dire la vittoria dell'Huddersfield Town. Guarda, non ti dico la vittoria, ma mi gioco volentieri un 1x in casa, quindi a favore dell'Huddersfield Town dato a 2,10. Senti che sono... Senti, doppia chance a 2,10. Senti come suona bene in testa? Suona benissimo. Eh, ci sta, ci sta, ci sta. È una gran quota anche perché l'Huddersfield vincente è dato a 4,75 e era un po' azzardata. Effettivamente. Troppo azzardata. Mentre io penso... Allora, il Leicester non ha niente da chiedere al campionato. L'Huddersfield Town, insomma, è davanti ai propri tifosi, è già retrocesso, va bene, è stato un campionato deludente, ma penso che queste partite possa non perderle. Quindi con una quota così goloso, una doppia chance, me la gioco. Assolutamente, e la segniamo e la teniamo in considerazione anche noi. Vai avanti. Detto questo, detto questo, stanotte ho fatto un sogno. Stanotte ho fatto un sogno e in questo sogno c'era un diavoletto che mi diceva, mi diceva, beh, l'ammo, guarda che Sarri non ha mai sbagliato una stagione. E io dicevo, ma no, è vero, ha sbagliato, diceva, quale? Io non scopo rispondere, perché Sarri non ha mai sbagliato una stagione. Sicché, perché proprio quest'anno dovrebbe fallire la qualificazione in Champions League? È vero, è vero, è vero. Hai ragionissimo. Detto questo, il derby di Londra, Chelsea West Ham, West Ham, West Ham, chiamalo come vuoi. Dato a 1,33, non è una quota bassa. Attenzione, io me lo gioco. No, no, assolutamente. Frambo mi aspettavo molto di peggio, devo essere sincero. Chelsea vincente a 1,33 è assolutamente da mettere in schedina. Assolutamente. Cosa succede? Chi si trova per i punti con il Chelsea? L'Arsenal. Esatto. Che va a Liverpool a giocare contro l'Ever. Diciamo, ci sono due squadre in forma smagliante. Sì. Ma penso che l'Ever ha vinto col Chelsea, per esempio. Ha vinto le ultime due partite. È in forma, sta giocando bene, gioca in casa. Io gioco l'X a 3,45. Eh, questa è già più da Frambo. Questa è stosa, questa è stosa, cavolo. Ma Frambo, una cosa, io ho visto un gol recentemente di Runei, una punizione, forse un gol sotto l'incrocio, un tiro incredibile. È una partita recente o è un video di... Guarda, quel video, la punizione partiva da verso il calcio d'angolo? Sì, sì, bravo, quel tiro lì. Eh, penso che sia recente. Beh, fantastico comunque. Wayne Runei, ragazzi, un giocatore... Che giocatore pazzesco, direbbero. È pazzesco, sì, è pazzesco. Veramente pazzesco. Detto questo, guarda, guarda, ti dico la verità. A un certo punto quel diavoletto mi diceva, guarda che il campionato lo vince il City. Io dicevo... No, ma te sei sicuro di questo? Io sono abbastanza sicuro di questo. E sono anche sicuro che il Liverpool comincerà a perdere punti. E sono anche convinto che il Liverpool a Southampton... No, no, questo no, Frambo. A Southampton, in Liverpool, quota nove e mezzo, l'uno del Southampton. Io non ti dico giocalo, ti dico solo che c'è. Scusa, Frambo, ma allora, memora della tua giocata precedente, facciamo un 1x. Assolutamente. Non ho guardato la quota di questo, però, per la doppia chance. Allora, prova a cliccarci, Gwe, clicca sulla partita. Benissimo, ci andiamo a vedere noi. Allora, doppia chance. 3 e 10, Frambo. 3 e 10. Butta la via. Ragazzi, la Pasqua è già arrivata a Radio Etilica. Sì, però non può perdere il Liverpool. Sai che però, Frambo, sono d'accordo. Secondo me il Liverpool farà, purtroppo perché le favole non finiscono sempre bene, una franata in campionato e il City farà la figuraccia di merda in Champions se uscirà. Invece per me è il contrario. Il City deve dimostrare qualcosa anche in Champions prima o poi. Io dicevo così anche il PSG, dopo è uscito come motocana. Ma aspetta, City e PSG, secondo me, benché due grandi squadre, sono a due gradini diversi. Cioè, il City ha un allenatore, dalla difesa all'attacco non ha nessuno al posto sbagliato. Il PSG dietro un Tiago e Silva ormai quarantenne. Cioè, o no, Frambo? Allora, chi lo paga questo che mette le sirene? Come fai a sentirle che sei al telefono, Frambo? Lui è qua, è con noi in stanza. Frambo, gli devo dire di smettere quelle sirene? No, in qualità di amministratore me ne devo preoccupare. E la Madonna! Ma ascolta, e quindi il City vince il campionato e vola fuori in Champions? E' anche il tuo verdetto questo? No, 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 non lo so, non lo so. Sai, in Champions basta l'episodio. Sì, però è anche vero fare... Non nessuno a riguardo. Cioè, fare schifo tutti gli anni con una squadra del genere quest'anno, il City deve dare la priorità alla Champions per me, dai. Deve dare la priorità alla Champions. Ma no, io penso che le priorità non esistano dal momento in cui scendi in campo per vincere tutte le partite. Quello è vero, quello è vero. E quindi tu tutte le partite schieri la formazione migliore e vai lì per vincere e per fare il culo a tutti. Però Frambio mi immagino anche il tifoso del City che dopo anni di vittorie di goleade incredibili in campionato la voglia vedere, voglia vedere la squadra almeno in finale a giocarsela fino al novantesimo. Cioè, è una roba, un qualcosa in più. Non dire che vuoi vedere il City che battere in finale. Io odio il City, io odio il City. Io odio il City. Non scappare, Luca, non scappare. Ti sei esposto, mostro. No, allora, no, aspetta. Sinceramente io voglio che il City non vinca né il campionato né la Champions, però mi è sempre sembrato così strano non vederlo mai neanche lottare per la finale. Lottare per potersela perlomeno permettere o pensarsi soltanto. Cioè, hai capito? È una squadra che controcoglioni il City, ragazzi. Perché a me dispiace. Solo il tempo ce lo dirà. Intanto ti do un dato. Vai. Dal 1977 il Marsiglia non vince a Bordeaux. Ah, gioca stasera, mi sa, o no? Esattamente. Quindi ci vuoi dire che... Il Bordeaux sta andando malissimo. È in un momento di forma pessima. Il Marsiglia con il fenomenale Balotelli si sta pian piano riprendendo da un inizio dell'anno, diciamo, zoppicante. Quindi i Bordeaux d'anno favorito il Marsiglia. Esattamente, 2,15. Se tu però tieni conto delle statistiche che sono importanti... Esattamente. Puoi pensare di giocare una doppia chance 1x quotato 1,70. Assolutamente sì, anche perché in base alle cose che hai appena detto... Eh, ci può stare, ci può stare assolutamente. Ci può stare come, ci può stare come. Detto questo, considerando che la doppia chance dell'Undersfield Town in casa, 1x contro l'Ester City, è dato a 2,10. L'Everton fermerà l'Arsenal sul pareggio, 3,45. Il Chelsea vince in casa, il Bordeaux non perde in casa. Se tu consideri che il Real Madrid, che gioca in casa con l'Eibar, è dato a 1,30. Mi sembra beneficenza ai poveri, veramente. Real Madrid in casa, data 1,30, non lo vedo da non so quanto. Devo domandarci a controllare. Quest'anno si vede, perché ha avuto dei momenti veramente bui. E quindi i Buc, giustamente, hanno lanciato un pochino le quote. Ma quindi Frambo, anche Real Madrid nella tua schedina? Esattamente. Ok, ok, ok. Insieme a Barcellona-Atletico-Madrid. Ce l'ho sotto qua, ce l'ho sotto proprio... Che gola, che gola! Se non la dice il Frambo, mi tocca saltarla. Frambo, cosa hai messo? Barcellona-Atletico-Madrid. Ho messo uno fisso, a quota 1,80. Bravo, sì, sì, assolutamente sì. Sarebbe anche a giocare secca. Sì, sì, assolutamente sì. Cioè, dici secca, tutto su questa... È un all-in. Molto bella, è una quota altissima. Eh sì, ci sta. La quota è alta, sì. Però un attimo, adesso vado a vedere un secondo la classifica della Spagna, perché vorrei capire se... Se l'Atletico ha possibilità di raggiungere il Barcellona in vetta. Allora, il Barcellona è a più 8 dall'Atletico-Madrid. Scusa. Quindi, fondamentalmente, l'Atletico-Madrid... Sì. Boh, non lo so. È un più 8 che non è mica... Gua, mi sta facendo un segno. Diciamo che è un più 8 che non ammette possibilità di recupero al secondo mani. Ho capito, però, ragazzi, l'Atletico-Madrid... Vabbè che sono al Camp Nou. No, sono d'accordo con te, Frambo, sono d'accordo con te. Diciamo che al Barcellona basterebbe un pareggio, ma io penso che non sia contenti del pareggio e porti a casa tutta la torta. Sì, anche secondo me. Cioè, poi, una vittoria da pagliativo, il Barcellona non te la dà. Proprio ti ammazza, secondo me. Poi deve prendere coraggio, comunque, per tutto. Domanda stupida. La Champions settimana prossima il Barcellona giocherà? Sì. Quindi non c'è... Non so se gioca subito, adesso non mi ricordo l'ordine delle partite. Può essere una scusante, magari, per un gioco un pochino più leggero? No? Secondo me no, ma ognuno può il proprio punto di vista. Allora, gioca mercoledì 10 aprile a Manchester il Barcellona. Quindi proprio questa settimana? Sì, sì. Esattamente, sì. Comunque, Franbo, io vorrei anche fare una parentesi ogni tanto, e forse se ne riparlerà l'anno prossimo, però una parentesi di tutta una bulletta per la Champions League, perché le bullette della Champions sono veramente le più bastarde. Sono veramente le più... Cioè, può succedere sempre qualsiasi cosa in qualsiasi partita, e secondo me c'è da divertirsi a provare a buttare giù qualcuna. Sono anche le più belle, diciamocelo. Eh, appunto. E non ti intriga l'idea di magari beccarsi un lunedì, un giorno in frasette? Diciamo un martedì pre-partita Champions. Ci sta. Orario aperitivo, ci mettiamo qua e dopo andiamo a guardarci la partita insieme. Sai cosa faccio sempre tutti gli anni? Vai. E perdo, chiaramente, tutti gli anni, però è divertente. Passaggio a turno. Bravo, sì. Tutte volte il passaggio a turno. La causa del passaggio a turno. La prima del girone, il passaggio a turno. Tutti gli anni perdo, però magari ci giochi su 5 euro e poi per te... Anche con i mondiali l'hai fatto, se non sbaglio. Lì però... Boh, anche la Coppa d'Africa, lì malissimo. Però è divertente. Ci sta, ci sta, ci sta. Niente. Vi dico l'ultima cosa, poi vi lascio perché oggi le telefonate sono brevi. Dopo diciamo anche a Franbo. In Germania va in scena il big match. Si gioca tutto oggi. Il Borussia va a Monaco di Baviera. Che bella, che bella. Sai che mi piacerebbe essere nella curva del Borussia? Sarebbe bellissimo. Sarebbe una partita da vedere. Non la guarderemo, pazienza. Ma se per caso, se per caso, nel senso diciamocelo, tutto il mondo tifa Borussia Dortmund domani, giusto? Ovviamente sì, tranne Mattias. Tieveo. Tranne Mattias che invece è l'unico che tifferà Bayern Monaco. Ce ne sono alcuni, lasciamo lì. La quota per il 2 del Borussia Dortmund è altissima. Al Dortmund basta un pareggio. Quindi è quasi scontato l'X2. Quanto mi sai dire quanto viene dato l'X2? Un attimo che controlliamo. L'X2 è adatto a... 2,50. E vacca boia, che bella. Trofi è... È difficile. È difficile se non... È un partitone difficile sarebbe... Nel senso, se qualcuno la guarda, bisogna mettersi su per forza due ghimè. Ma scusa, ma il Bayern quest'anno non sta andando... Non è schiacciassassi come gli altri anni? O sbaglio? Non lo guardo io la Bundes? Non sono molto... No, è vero, neanche il tempo. Ha avuto... È stato un po' altalenante, tant'è che non ha tantissimi punti. Diciamo, ha avuto un rendimento normale. Quest'anno non ha fatto il Bayern Monaco. Anche secondo me. Infatti pensavo... Allora, la classifica vede il Dortmund al primo posto, il Bayern al secondo. Ci sono due punti di differenza. 63 e 61. Al Dortmund basta un pareggio. E la differenza a gol è più uno del Borussia Dortmund. È veramente una cosa risicatissima. È vero. Hai ragione, Frambo. L'X2 sembra una bella giocata. Sì, la è oggettivamente. Vi lascio con questo dubbio, con questa fantasia, con questa notte insonne a pensare a Bayern Monaco, Borussia Dortmund. Ci vediamo presto in studio. Più che volentieri, Frambo. Ti stiamo aspettando. Intanto vi saluto e vi ringrazio per il collegamento. Ciao ragazzi, bocca al lupo. Ciao, Frambo. Grazie a te. Buona serata. Effettivamente la bulla del Frambo è una bulla di quelle che tipo la guardi e dici... Non l'hai fatta te, no? Per dire la fa gue. Io la guardo e dico, cazzo, due euro ce le butterei. È bella. Sì, altro che due euro. Però ha giocato di fatto tre partite o quattro la sfavorita con una doppia chance. Quota alta, non è male. No, no, altissima la quota. Fanno gola, fanno gola, ecco. Fanno molta gola. Assolutamente. Luca, ci ascoltiamo un pezzo e dopo proviamo a richiamare un nostro ospite dopo. Molto volentieri. Molto, molto volentieri. Allora, Days are Forgotten dei Casebien. Gran pezzo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo ascoltato il nostro presidentissimo, co-presidentissimo. È un bel presidente! Grazie ancora a Frambo per la chiamata. Ora stiamo provando a sentire un altro presidentissimo. Eh sì. Vediamo se ci risponde. Eccolo! Eccolo! Ciao Andre! Mi senti? Mi senti? Sì, mi sento! Sai con chi sono? Sono col bando. Ciao Andre! Sono col bando. Sai perché ti ho chiamato? Volevo chiederti, secondo te la Juve batte il Milan? Che cosa? Secondo te la Juve batte il Milan? Che non è sì, secondo te? Eh, è una partita molto difficile direi. Quanto vince secondo te? Secondo me per lo scudetto, diciamo due. Due? Eh, vacca che bello, due a zero. Sì. Andre, ma ci vai alla festa a scudetto? Eh certo! E' domani sera. E se gioca la caccino come fai ad andarci? Ma è domani sera la festa a scudetto. Eh, e se perdete? Non è vero. Fì, sei un super juventino. E invece il Parma vince col Torino. Vediamo. Eh, però te ho di più il Parma o il Torino. Secondo me faccio a Bellotti. Bellotti? Incredibile. I gol di Bellotti fiamando. Andre, Andre non abbiamo Gervinio, non abbiamo Inglese, non possiamo vincere contro il Torino. Come facciamo? Andiamo in Serie B, Andre, andiamo in Serie B. Non è vero. Invece non l'ho mai detto nessuno. Inter Atalanta. Cosa fanno? Ho una paura. Chi vince? Se non me l'avete vinto con il Genoa, bisognerò. Inter Genoa o Inter Atalanta? Inter Atalanta. Invece a Milano era un gol, un bel 4-4. Eh, che bomba. Alla mosca. Se fa 4-4 davvero, fiava giù di testa, Andre. Perché cosa? Andre, una partita difficile ti voglio chiedere. Io ti voglio chiedere. Cagliari-Spal. Chi vince? C'è un po' chi vince. Eh, io te lo so già. Te sei un po' lastrone, secondo me. Non lo sai neanche te chi vince. Se non sei un tacchino arrosto. Io sono un tacchino arrosto? Ma porco cane, Andre. Te veramente, guarda, Cagliari-Spal, non hai idea di come possa finire. Te lo dico io. Secondo me è un'altra vittoria-Spal. Dici? Sai che è interessante, è interessante. Allora, Andre, domanda difficile. Chi va in Serie B quest'anno? Secondo te? Eh no, secondo me ci va. Il Parma. Il Chievo. No, ma che è il Parma? Ma cosa dici? Ma cosa hai? Tu sei un anti-parmigiano? No, Andre, questa qua è una tattica la mia, è una tattica. Fa finta, Andre, fa finta. Ti voglio mai dire. Altra domanda difficile, Andre. In Inghilterra vince il Manchester City o il Liverpool, il campionato? Secondo me, secondo me, chi c'è primo in Inghilterra? Manchester City. Allora, facciamo che... C'è cosa? Klopp vince. Grande Liverpool, allora. Bravo, Andre. Anche secondo me, Andre, bravo. Grande, Andre. Domanda più importante del mondo mondissimo. La Cacillo, domani, vince. Jack, vai, Edno. Eh, verrò, però non riesco a giocare, Andre. Ti sono male a gamba. Eh, sì, un po' sì. Però secondo te vinciamo. Secondo me ho già dato il modulo, Jack. Cavolo. Come giochiamo domani, Andre? Con che modulo? Con il mio modulo, tu. Adesso la resta di mio modulo, signor Bandini. E non sono esonerato, quindi domani ci sono? Ma te cosa sentri? Ho esonerato Madre, ho esonerato. Ah, meno male. Finalmente è esonerato Madre. Finalmente. Era da anni che te lo chiedevo di buttarlo fuori dalla squadra. Lui vuole andare a giocare al Val Serena. Secondo me è vero. Allora, adesso è il gomma, Pollo. Ma, Andre, un attimo. Prima ci chiedevano come gioca lo schiaffino. Te che l'hai studiato, l'avversario. Come gioca? È più all'attacco, alla difesa? Come gioca? Aspettando dalle loro statistiche che hanno zero gol subiti. Zero gol subiti? Bacca, mao. Poco fa. Come facciamo a far gol noi, Andre? Che non facciamo gol neanche con la matita? Belle battute. Bando, non ci sei ancora? Ci sono. Il motore è questo qua. Che è il mio. È cercando con me. Il 3531 è mio. Ma Enno, Enno non gioca perché si è fatto male, Andre. Allora c'è Gigi, Pigi, Dalla, Maga, Marfa, Loci, Gabi, Fede, Bando, Teo, Berasa, Arstomi, Manso. Mamma mia, non possiamo perdere. Non possiamo perdere, Andre. Gran bella formazione. Andre, posso darti una news? Ho saputo che Jackie, il nostro caro Jackie, a fine anno molla la Cacillo. L'unica vera. Me l'hanno detto, me l'hanno detto, me l'hanno detto che vuole andare a allenare i dipendenti sanità. L'unica vera. Me l'hanno detto, Andre, davvero. E sai chi è che prende il suo posto? Sai chi è che prende... Andrea Bonazzini. Andrea Bonazzini diventa l'allenatore della Cacillo l'anno prossimo. Per adesso il modulo è perfetto. Sì, sì, no, ma io mi fido dei tuoi moduli, lo sai. L'importante è che non giochi Made e Totò Baro. Made è nel modulo di Jackie, tanto. Ah, boh, meno male. Meno male, bravo Andre. Molto, molto bravo. Mi fai un caro Jackie, per favore? Intanto ce l'hai il cellulare in mano? Sì, ce l'ho, ce l'ho. No, ma dillo adesso, urlalo adesso. Ce l'hai il cellulare? Sì, sono pronto. Caro Jackie! Che bello, Andre. Andre, meno male che la cacillo a te. Meno male davvero. Vediamo, vediamo, vediamo domani. Andre ti saluto, stasera vai a letto presto, mi raccomando. Intanto, non si direi, intanto, non si spera come sta. Adesso non sto ancora bene, purtroppo, Andre. Però mi rimetterò presto, te lo prometto. Vediamo, con la madre colore si giocherò sì, con la madre colore. Spero proprio di sì. Io devo andare al Lago Santo, eh, Andre, devo andare al Lago Santo quel sabato lì. No, io ho detto anno, io non... Ah, scusa, scusa. Ci provo, Andre, ci provo. Giuro faccio il possibile. Ma è negramo! Basta, ma è negramo! E poi è un anno! Anno! Dimmi. Allora, se ci riesce allora no. Per la madre colore se... Dovrai escerci, Andre? Dovrai escerci? L'anno è gramo! Ah, va, no! Devo mettere giù perché mi ruba il cellulare, Andre. Ah, no! Fa lo sciocchino, fa il polletto, fa. E poi la strona, lui. Poi la strona. Caro Andre! Allora, eh, non così presto. Va bene, bello? Va bene, va bene, Andre. Ti ringrazio per la chiamata. Ciao, Andre! Buona serata. E' bravo, domani, domani sei nel mio modulo. Meno male, finalmente! Nel primo tempo. Andre, domani faccio gol. Bravo! Boh! Grazie mille, Andre. Buonanotte! Ego, domani si vieni, però voglio fare il bando. Certo che vengo. Vengo, vengo. Bravo! Ciao, Paolo! Ciao, Paolo! Caro Jackie! Il numero uno, ragazzi, Andre Bonacini. Pazzesco. Talismano, presidente, allenatore, preparatore tecnico, preparatore tattico. Beh, vabbè, lui, lui è un personaggio incredibile e che ci ha lietato la serata, mi viene da dire. Eh, non sai che hai messo una canzone dopo l'altra che non ne conosco neanche una? Adesso mettiamo questa per caricare un po' il venerdì sera, bando. Ragazzi, buon venerdì a tutti voi, signori miei. This time is my life. Mica. Eccoci, eccoci. Oh! Eh, eccoci qua, eh no. Eccoci qua, Luca e gue, ci siamo rimasti solo noi. Eh sì. Allora, ragazzi, vediamo l'ultima chicca. Il nostro carissimo amico che... che volevamo chiamare perché è in Inghilterra, il nostro buon Luca, però purtroppo lavora troppo e cosa è incredibile perché Luca che lavora non si è mai sentito, per cui non riusciremo a collegarci con lui. Intanto gli inviamo un buona fortuna e proviamo a sentire un altro incredibile ospite, di solito fortissimo, di solito eh. Non quest'anno nel fantacalcio però mi dicono Luca. Io non dico niente del fantacalcio, non parlo più. Neanche degli altri? No, 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 non parlo più del fantacalcio, sono in silenzio stampa. Pazzesco. Se ci risponde questo altro ospite potremmo chiedere a lui, che è la premier di qualsiasi cosa. Lui è abbastanza informato, è molto bravo eh. E me la mena sempre che io non rispondo mai al telefono. Adesso vediamo se lui... Ecco, vediamo se lui risponde. Quasi spero di no per menarla lui. Eh sì, ma ragazzi se non risponde neanche questo qua, chi chiamiamo eh? Ricordo a quanto ha... Ha risposto a Longi. A Longi! Vodafone signore, Vodafone non risponde. Pazzesco. Prova a scartabellare in rubrica. Prova, prova a dare un occhio. Prova a dare un occhio se abbiamo un ultimo ospite da interpellare. Dai, intanto comincia a buttare giù un po' di partite, buttare giù un'idea di cosa ci troverai. Vuoi fare la nostra schedina? Vuoi fare? Vai. Allora, proviamo a fare la scheda, anzi la bullettona di radiotilica. Allora. Partiamo eh, vai con la prima. Non abbiamo ancora detto niente sulla Ligan. Secondo me ci sono solo partite inguardabili, con quote bassissime, non la toccherai neanche. Forse va per quello, allora. No, il Frambo, il Frambo è nominato in Marsiglia, vero? Però sai che lui è strosa. Vabbè, ma il Frambo, cioè... Frambo è Frambo. Frambo ha una marcia in più. Frambo ha una marcia in più, è la verità. Allora, se dovessi guardare la Liga, anche lì potrei giocarmi solo a Barcellona Atletico. Yes. Nel frattempo ho fatto partire una chiamata io, eh. Vediamo se risponde. Allora, vai avanti intanto, cosa dicevi? Barcellona Atletico. Eh, Barcellona Atletico io sono d'accordo col Frambo. Metterei un 1. Quattro bella. Sì, sì, sì. Assolutamente. Allora, dai, dai. Per la radio mettiamo Barcellona Atletico 1 per adesso. Pronto? Pronto, Doso, Doso! Eccolo qua! Pronto? Doso, mi senti? Oh, dimmi, sì. Ascolta, ma dove sei? In un bunker? Ok. Eh, ti sento molto basso? Sei giù di morale te? Cos'è successo, Doso? No, no, aspetta, ma sì. Oh, sei in diretta su Radio Etilica, eh? Non è che sei... Attenzione! Attenzione! Un saluto, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, Doso, sono Enno. Oh, ciao, Enno. Ascolta, Doso, te abbiamo chiamato. Come mai questa? Eh, appunto, te abbiamo chiamato perché volevamo sapere se tu facessi una scommessa stasera, una bella bulletta da sbancare, portare a casa un 150 euro. Restiamo umili. Ma molto umili. Allora, partiamo da... Enno, fai tu le domande al Doso, che il Doso è uno che ne sa, incredibilmente. Nessuno lo direbbe mai. Allora, no, no, io rimango umile. Non è che voglia... Come noi, come noi. Vuoi vincere? Umile, però. Sì, però è giusto. Mi chiedo Gerard. Vai, Enno, vai con la prima. Prima domanda molto semplice. Barcellona-Atletico-Madrid. Cosa direi? Gerarderei un uno più gol. Yeah, effettivamente. Ci sta, ci sta. L'uno è dato a 1,75, più il gol mi vengono già i brividi. Adesso vediamo se Guè... No, Guè non ce la farà mai adesso a calcolarci l'uno più gol è live, però è un'ottima quota. Non c'è problema. Secondo me sarà un 3, un 3 e qualche cosa. No, appena meno. Due un po'? Sarà un 2,30. Ok, ma ci sta. Noi segniamo tutto, Doso. Dopo lunedì ci presentiamo. Ci chiamo per dividerci la posta. Vabbè, lunedì basta andare in cassava. Bravo, Doso. È la mentalità giusta. Enno, procedi. Procedi. Doso ci fa sbancare stasera. Ma guava, lo spero vivamente perché è da un po' che non sento... Ah sì, da molto tempo. Eh, da molto tempo. Probabilmente da quando fate la trasmissione. No, non vi accorgi l'uno che ci demoralizzi, bacca po'. Allora, noi abbiamo sempre detto, Doso, che la trasmissione... Noi dividiamo delle dritte. Poi voi non dovete prendere... Hai capito? Non dovete prendere per scontato tutte le cose che diciamo. Dovete centellinare e riuscirete a vincere. Dobbiamo prendere quelle giuste. Voi le altre... Bravo, bravo. Bravissimo, bravissimo. Tipo un'altra caldissima in Bundesliga. Bayern-Monaco, Borussia Dortmund. Eh, qua allora... Chi vince, vince lo scudetto qua. Esattamente. Poco da dire. Poi tu hai da super tifoso del Bayern. Quale sei? Il Bayern-Monaco gioca in casa, però l'ultima ha toppato. Ha fatto un pareggio a Friburgo. Quindi non lo so. Non so se è in grado di battere il Borussia. O il Borussia Dortmund ha una quota per la vincita che supera i cinque, quindi... Si potrebbe anche azzardare un X2. Esatto. Ma sei in perfetta wave, come direbbe il mio amico Gue, con il Frambo. Anche perché il Bayern-Monaco ha 4-5 anni che vince lo scudetto consecutivo, quindi quest'anno potrebbe essere sorpreso. E con l'X2 domani forse il Borussia potrebbe vincere lo scudetto. Quota 2,50 eh, Doso. È ottimo. Eh, sì, è una bella quota. È una bella quota. Questa è rischiosa, però si può giocare. Ma al Doso ne facciamo una per ogni campionato? Possiamo provarci. Dove vogliamo adesso, eh, no? Beh, adesso direi di volare. Vediamo se lui è preparato. Sentiamo. Ligan. Vai. Bordeaux. Ah, merda. Già inizia. Tra l'altro live, ci stai sparando un live. Bordeaux-Marsiglia. Attenzione. Allora, Bordeaux-Marsiglia. Abbiamo il Bordeaux già salvo, praticamente, con poche ambizioni. Invece il Marsiglia si gioca l'Europa League. Forse Champions, no. Andiamo a guardare la classifica. Anche qua sarai forse più per l'X2. Dici un X2? Eh, il 2 quanto è dato addirittura? Allora, il 2 è dato a... La prima, la prima. Aspetta. Ah, non c'è più perché live. È vero. Eh, c'è scomparsa la quota, Doso. Non lo possiamo vedere. Forse si va, Enno. E poi c'è un Ballotelli che segna la quattro consecutive. Il 2 a 2,15, Doso. Eh, giocabilissimo. Allora, sono 0-0 al quarto, quindi è tutto ancora aperto. Il problema è che non possiamo mettere nella stessa schedina un live, secondo me, con... Eh, lo so, lo so. Quindi... Questa è la segnala per sfizio. No, beh, questa è la segnala per sfizio. Proprio questa è la... Se vincerai la bulletta, diremo, avrebbe potuto vincere anche molto di più. Attenzione, però. Avrebbe, ma non ha voluto, umile. Sei umile, Doso. Sai, però, che Ballotelli è in panchina. Boh, Doso. Attenzione, però potrebbe cambiare tutto. Magari sale e fa gole. Beh, ha riascoltato. Ragazzi, ma il giovedì sera il Ballotelli si dà la pazza gioia. Entrerà il secondo tempo, giusto il tempo per smaltire la quaglia. La sbornia. Sì. Potrebbe fare un golletto nel secondo tempo. Sì. Oh, Doso, tu lo vorresti Ballotelli al Parma? Sì, sì, assolutamente. Lo vorresti Ballotelli al Fraore? Ma meno, più al Parma. È facile. Giustamente. Denno, dove voliamo? Allora, io direi quasi quasi di volare in Serie B. Oppala. Questa qua si va sul difficile, Torre. Eh, questa io non l'ho mai presa una in 27 anni. Serie B, impossibile. Palermo-Verona, cosa mi dici, Doso? Allora, Palermo-Verona, quarta contro quarta. Doso, come cazzo ne sai? Qui fa l'umile. Non l'abbiamo mai chiamato il Doso, tutta una bulletta? Non ne ho idea. Vabbè, perché sono probabilmente fuori classifica della traduzione. Sempre umile, Doso, rimani umile. Sai perché non l'abbiamo mai chiamato? Me lo ricordo, perché aveva minacciato di comprarsi e chiudersi. È vero. È vero, è vero. No, avevo fatto anche un offerto. È vero. Io mi ricordo che mi hai chiesto, bando quanto costa quella baracca lì? Ecco perché l'abbiamo mai chiamato. Avevo anche offerto un 5.000 per tutto. Compresi i muoi. Trafottente. Sei strafottentemente umile. Ho fatto un 5.000 non trattabile per tutto. E ci stavano quasi cascando. Ma te avrai pagamento a 90 giorni, Doso, dai su là. No, no, mi andrà bene anche a 60. Comunque serie B, Palermo-Verona... Io qua sarei più... Dunque, il Palermo-Girone di ritorno ha fatto malissimo. Vero. Mi sembra soltanto 13 punti o una roba del genere. Il Verona invece è in ripresa. Si potrebbe quasi... Tra l'altro il Palermo ha perso a Piscara, l'ultimo. È vero, esatto. Potremmo quasi un X. L'X secco però è poco umile. L'X secco è poco umile però ha una quota spaziale che raggiunge i 3,10. L'X è molto valido. Enno, te ti fideresti del Doso che con questo strafottente tono ti dice X? Questa è forse la più difficile delle... Vero. E questa secondo me, tra tutte quelle che le hai bianchiesto, è la più difficile. Potevi anche azzardare... Questa è proprio una partita da triple. Potevi anche azzardare un over 2,5, un over 1,5. Potevi anche azzardare un over 2,5, un over 2,5... No, è vero, se non ti vedi che non ti viene dal cuore, Doso, fai benissimo. Ma poi restiamo un X, dai. Sì, che bella bulla. Poi ci vinci su 2 euro e vinci 10 mila euro. Allora, abbiamo segnato tutto, perfetto. Restiamo in Italia o vogliamo in un'altra nazione? Proviamo un'Italia ancora. Restiamo in Italia. Io ho anche una della Serie A che secondo me è quasi scontata. Oppa la... Ahia, sui quasi scontati in Serie A... Aspetta, proviamo a beccarti la quasi scontata. Aspetta che andiamo a vedere, allora. La tua quasi scontata sarà Cagliarispal. No, esatto. Eh, da forza. Cagliarispal... Un bell'X. No, due fisso. Ma no, un punticino a testa. Sai che dal credone avrei detto che dicevi Parma-Torino 2, però mi sono spaventato. No, invece il signore. Allora, il Doso mi ha insegnato a non scommettere mai la squadra per cui si tifa. No, infatti, io contro avrei detto, però... Non chiedetemi il Parma. No, no, neanche contro. No, no, perfetto, giustamente. Il Doso mi ha sempre detto, beh, anche con discreti insulti, di non giocare il Parma mai. Sì, lo giocavi sempre, non l'hai mai beccato. Ma perché c'avevo una teoria? Io giocavo, per esempio, il Parma sconfitto, no? E poi, se il Parma vinceva ero contento. Se il Parma perdeva ero contento lo stesso perché l'avevo scommesso. Bene. Peccato che lo mettevi con altre dieci partite che lo perdevi, punto almeno. E quindi... Era quello il problema. Il Parma perdeva e te perdevi. Vabbè, qualche volta è successo che vincevo anche. È vero, è vero, lo devo ammettere. Allora, quindi, Enno, allora, Cagliarispal, Doso dice X, vabbè. Interessante. Un punticino. Un punticino. Un punticino, punticino. Allora, dai, ti chiedo anche Juve Milan a questo punto, visto che... Beh, vabbè, ragazzi, la Juve, sì. Dici che lo chiude domenica così, con Juve Milan? Cioè, fanno la festa a Scudetto, subito? Io, Juve Milan, potrei anche un... Molto interessante, secondo me, è un Under 2,5. 1,65, Doso. L'Under? Under 1,5. 1,65. No, 2,5. Scusa, Under 2,5, 1,65. No, però troppo poco. Ah, hai dato di più l'over. Lo sapevo, lo sapevo. Eh, sono più per pochi gol. Secondo me ha partito da 1,0. Cioè, il Milan non riesce ad andare a strappare un punticino a Torino? Il Milan è giù come il petrolio. Ho capito, dovrà poter riprendersi, figa. Cristo santo. A Torino, facile. Potevi farlo riprendere e correre al Madrid. Oh, a Torino, il Parma un pareggio l'ha portato a casa, intanto. Sì, infatti è stata l'unica, no, col Genoa, due pareggio ha fatto l'unica. È vero, Parma e Genoa. Vabbè. Incredibile. Allora, abbiamo le ultime bombe da chiedere al Doso? Ma secondo me di bombe ce ne sono poche, perché gli altri campionati gli fanno venire il bombe. Beh, la Premier, la Premier. Possiamo chiedergli qualcosa di Premier. Allora, vediamo. Eh, la Premier, vedete, l'abbiamo saltata. Allora, vediamo. Solo perché vorrei confrontarlo con il nostro presidente. La partita Huddersfield-Leicester. Ah, questa bella. Allora, l'Huddersfield è ultimo in classifica, viene da una serie di sconfitte consecutive incredibili, da retrocesso e in Leicester oramai non si gioca quasi più niente. Potrebbe fare tre punti facili per garantirsi la salvezza, però il 2 secondo me è basso. Allora, il presidente voleva giocare l'1-X. 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 È sorpresissima. Il Frambo diceva che l'Huddersfield in casa davanti ai propri tifosi voleva regalare diciamo questa bella giornata di calcio strappando una vittoria o un pareggio. Oh, ci può stare anche quel ragionamento lì, però allora forse giocherai più gol, più over. Il 2 è dato a 1,70. Ah, infatti è un po' bassino. Beh. È più una partita forse da calcio spettacolo. Non vedo l'ora di andare a vedere una bella partita Adversfield-Leyster. No, però magari un gol più over, due e mezzo, si sa. Eh, beh, oh, questa sì che è una bella giocata. Gol più over. Cos'è, è passato di moda fare gol? Gol più over. Finiscono tutte 0-0, 1-0, questa qua deve partire 2-2, 3-2. Mi piace, mi piace. Guarda, se veramente avessimo scritto le cose che ci hai detto, adesso potremmo confrontare la tua bulletta con quella del frambo e soprattutto con quella di chicco fatta a inizio puntata e capire che c'è gente che ne sai e gente che non ne sa. Non ne sa, è vero, è verissimo. Vedete che non ne sai in una maniera imbarazzante anche. Ascolta, Andoso, quando è che verrai ospite proprio in persona a tutta una bulletta? Quando volete, mi chiamate, magari una settimana prima perché ho un po' l'inveglio. Ma chi sei? Però non ti devi presentare qua con la 24 ore e cercare di comprarsi un'altra volta, eh? No, no, no. Beh, aspetta un attimo. Mi presento lì però con la vincita di questa... Io non sono totalmente d'accordo. Se ti presenti con una 24 ore con dentro 5K, per me... Allora, mettiamola così. Tu e la 24 ore insieme non uscirete dalla radio. Io vanno e sono sicuro che te sei già il contratto firmato in bianco da qualche parte. Allora, qualcuno arriva lì con uno sterzo e le molli tutto. Tu sai bene che i contratti fatti all'ultimo secondo su un foglio di carta occasionale sono la mia specialità. E mi hanno già fregato più di una volta. Ma fregato cosa... Ti ho fatto fare l'anno migliore della tua carriera, Adoso, dai lati, mettevo delle biglie... Mamma mia, facevi i gol... Tutte le mie pennellate le buttavi dentro. La gente diceva, gran gol, Adoso, nessuno che guardava l'assistica. C'erano dei grammi in quel campionato lì. Mamma mia, mamma mia. E' radio tirica. C'erano delle squadre. Ascolta, Adoso, stasera... Avete segnato le mie partite? Allora, abbiamo segnato, abbiamo segnato. Magari per ricordarci le mandaci un WhatsApp. No, non hai segnato niente. Io ho fatto che non hai segnato niente. Adoso, siamo in tre. C'è Guè che sta mettendo i pezzi. C'è Enno che ti sta chiedendo le partite. Io sto bevendo una birretta. Non è che possiamo fare tutto noi. È giusto, dai l'intervista. Vi ringrazio. Adoso, stasera cosa fai di bello? Ma non lo so, adesso decidiamo... Ma sei nel Ferrarese o nel Nocetano? No, no, sono a Nocetano. Bevi una birra. Sono in patria. Bevi una birretta. Eh, va bene, adesso... Adoso, come ti conosco. Quando te dici... Quando prolunghi il va bene... Ti mando il WhatsApp con le partite. Sì, sì, va bene. Almeno quello. Almeno qui. Adoso, buona serata. Grazie mille, Adoso. Buona serata a voi. Al massimo ci vediamo dopo, dai. A dopo. Allora, dopo. Ciao, ciao. Ciao, Adoso. Ciao, ciao. Ciao. Eh, il Doso... Il Doso non l'abbiamo mai interpellato, ma il Doso è uno che... Un esperto, mi sembrava. C'è anche un gran culo il ragazzo qua, eh. Ti dici? Sì, sì, sì. A volte l'ho visto fare delle giocate che nessuno gli avrebbe dato un pio. E le ha prese. No. No, però... Però è stato molto vicino. Il coraggio l'ha avuto, quel ragazzo. Esatto. È tutta questione di coraggio, eh, no? Anche noi abbiamo avuto molto coraggio, però... Allora, noi abbiamo già avuto coraggio a metterci, io e te, alla guida di un programma che è, diciamo, guru di Radio Etilica. Radio Etilica è nato con questo programma e noi l'abbiamo fatto nostro, ovviamente, momentaneamente. Con le pinze, che eravamo sotto l'occhio di voi stasera. Stasera, eh. Ci ascoltarono dal Belgio, avrà registrato, ci ha già fatto degli appunti. Sì, sì, sì. Creticato. Domani arriverà il resoconto del... Musica troppo alta, parlavate troppo forte. Le chiamate non erano assolutamente a livello. E un pochino lunghine. Troppe trombette. Oh, guè, ma quanto cazzo sei ricco con tutte queste trombette? Certo, cazzo molto. Ma ci fai il grano con le trombette? No, fatti, se no, perché hai vetto. Mamma mia. Allora, Enno, vai avanti. Allora, ormai i campionati abbiamo quasi finiti, direi. Anzi, finiti, perché gli altri non sono per nulla interessanti. Io manderei un pezzo, che è un pezzo di Nirvana, scritto da David Bowie. Mamma mia. The man who sold the world, perché oggi è 25 anni che Kurt Cobain è morto. Sparandosi. Povero. Sì, signore. Rest in peace. Mamma mia, che pezzo, Enno. E siamo sull'autopista. Autopista Barbera. Un po' arriverà l'autopista Barbera. Sì, non vedo l'ora di andarci. Bellezza. Mamma mia. Quante non ne ho limonate. Io sicuro ci vado. Figa, guè, te sei ancora giovane. Io spendo almeno, no, ma sono molto criticato, però spendo almeno 10 euro al tirapugno. L'anno scorso. Perché sei molto criticato. Eh, perché tutti, non so perché, nella mia compagnia tutti odiano i baracconi, e invece io li amo, cioè ne sono tutte quelle luci, a me fanno impazzire. Il più criticato. E veramente ogni volta ci devo andare da solo e... Ma aspetta, ma te sei quello zarro che ci mette lì con la palla a tirare i cazzotti? Eh, no, fatti. Ma da boh. L'anno scorso io esceva a 22 euro al tirapugno una sera. Ci sta però, ci sta. Prima del down under, tra l'altro. Eh, te la metti, te la trombetta. La metto. Sì, metti te la. Non posso mandarla in questo momento. Ah, ok. Ti volevo chiedere, ci sono ancora quelli che tipo si siedono sulle macchinine, ma sopra i sedili, abbracciano la bandiera e... Eh, beh. Eh, vero. E' gagliardi. Sono i miei idoli, sono i miei idoli. Numere uno. Sono i miei idoli, assolutamente. Ma, beh, ci sono diverse anche tecniche di cazzotto. Io ho visto, nella mia infanzia, ho visto... Se vuoi te le... Allora, ci sono due tipi, secondo me, principalmente. Quelli che tengono... Bravo, bravo. Fai noi, descrivi il gesto. Eh, praticamente prendi... Dipende con che braccio tiri. Comunque, con la mano ti prendi il polso, perché così non ti si piega. Quello lì sono i più zarri, però. No, però sono i più sfigati. Eh, appunto. No, aspetta. Se sei un esperto, sai che sono... Perché magari è figo da vedere il movimento, ma sono sfigati. Perché si vede che c'ha un paura di rompersi il polso. Però se tu vai a tirapugni, cioè, almeno cazzo... Paura di un cazzo. Esatto. L'altra tipologia sono quelli che tirano un cazzotto normale. Beh, sì. Poi dipende... Eh, poi vabbè, ci sono anche quelli che lo tirano così. Ma va... Non so neanche da commentare. Nel senso, tieniti... Dal lato al basso. No, no, così. Tipo con... Come tipo cazzotto alla Buzz Spencer, però... Beh, poi ci sono veramente i super pro... Occhio. Che fanno col calcio. Cioè, tipo i karateki, non lo sai qui, per far vedere un po' che... Ma vabbè, non l'hai mai visto, però, dal vivo. Beh, io ci ho provato. E sei caduto. Sì, quasi. Ho fatto una figuraccia... Poi sono legatissimo. Jackie Jackie. Secondo me i migliori sono quelli che dopo il cazzotto hanno il sangue sul pugno. Beh... E ce lo lecchiano, Dio. Sì, sì. Dopo nessuno più cazzotta perché... Beh, in realtà... L'altra volta, quando io e Sheva abbiamo speso 22 euro. A testa? No, no, in totale. Ah, bene. Fai conto che però con 2 euro sono 12 tiri. Madonna, hai picchiato una serie. No, è... Ne avevamo già messi 20, non ce la facevo più. Sheva mi guarda e fa... Ma avevamo anche un po', diciamo, alzato il gomito da Jeanne e quindi... Poi dopo fa metto gli ultimi due euro e io non ce la facevo più. Alla fine... Ma poi anche perché provi dolore fisico. Eh beh, dopo un po' sì. Perché il polso dopo un po' fa male. Infatti io a me faceva male. Cioè, no, al fine... Però adesso io non... Cioè, non vorrei... Però Sheva dava più forte. Beh, sì, però sai cos'è che... Cioè, lì non è questione... È come prendi la palla. Perché lì il sensore è in un punto ben preciso. Quindi se prendi la palla nel punto giusto puoi fare anche di più di uno che tira più forte. Cioè, il sensore è all'arrivo, no? Sì, il sensore è dove tocca. Ok, quindi tipo se riesci a fargli fare un movimento... Se tu riesci a farlo arrivare ben preciso, bello dritto, fa un bel punteggio. Se invece già lo tiri fortissimo ma già un po' storto, il sensore lo sente meno. Quindi fa un punteggio più basso. Sì. Ci vuole bisogno di studiarlo. Eh, infatti qui stasera tutto un punji ball e parleremo... Ah no, non è questa la puntata... Non è... Potremmo farlo perché è un baracco... Ah. Potremmo farlo, potremmo farlo il baraccono. Mi stavo già boh immaginando una scena e poscio i baracconi e voglio arrivarci tipo in canotta bianca e già lì in cui ti ti moro, secondo me. E inizia a menare, a menare, a menare. Contando che ci saranno tutti i minorenni e arrivi tu incanottato... Con il pelo di fuori. Però a noceto ti becca male. Però se tipo vai già a Manfredonia a settembre fanno la festa della città e ci sono dei baracconi giganti ma molto più di quelli di Parma. tipo adesso vedi Parma è già quasi accettabile. Ma posso dirti allora, io ho sempre goduto i baracconi, poi ho iniziato a odiarli perché i ragazzi dei baracconi, quindi i Barbera, non so chi cazzo fossero, ogni anno ci sfidavano a giocare a calcetto lì dal Mon nel campetto lì a 5. Noi ci abbiamo giocato a pallavolo in piscina. A pallavolo? Sì, in piscina. Io non so come sia finita, ma noi non abbiamo fatto una partita, ogni anno giocavamo contro questi qua e in paglio c'erano i gettoni omaggio. Quindi se noi avessimo vinto, e dico avessimo perché non abbiamo mai vinto una volta, avremmo vinto, ci hanno sempre... Ma umiliato. Sono forti. Ma sono forti, non lo so, ci hanno sempre messo... Non abbiamo neanche tipo di un gol o due, non ci abbiamo mai avuto gara. Umiliati. Sempre. E poi questi qua erano, cioè nel senso... Buoni. Erano degli zarri, no? Erano tipo... Ebbene, che me. Cioè hai capito? Proprio ti prendevano per il culo, figa, ti sfottevano. È una roba... Mai vinto una partita, mai. Sì. Che mai. Ma poi loro sono abituati a stare in giro, cioè proprio godono... Ma secondo me tipo vanno in giro, si mettono lì. Sì, si occupano quelli, secondo me. Sì, sì. Vi penserebbe fare quella vita? No, no, stavo per dire che è l'ultima vita che fai nel... Cioè, cambiare, tipo, vivere... Cioè, comunque vivi nei parcheggi, tipo una settimana vivi nel parcheggio il nostro. Sì. No, ma la roba è pazzesca, è comunque la cosa sempre uguale che vai a fare, anche se cambi posto. Per cui monta, smonta, rimonta, monta, smonta, rimonta. Beh, diciamo che lì ci sono anche gli indiani che adesso gli danno una grossa mano. Sì? Sì, sì. Beh, adesso, so, i Barbera ce l'hanno l'indiano che gli mette a posto la roba. Ah, dici, fia, anche un miscino. A parte che secondo me ormai c'hanno talmente tante experience che ci mettono 0-2 a montare le che i cancherini. Sì, però secondo me è una rottura di, cioè, una rottura. Fia, esatto. A me sono di, beh, fanno impazzia. A me è di pesanti, poi, scusate, spostare, fare. Però vabbè, saranno super esperti. Comunque rispetto per i Baracconi, sempre e comunque. E io ogni anno ci andrò sempre, fanculo a chi mi critica. Ma fai bene, Guè. Bella, Guè, bella, Guè, giusto così. Niente, chiudiamo la parentesi Baracconi. Yes. Sì, comunque mi è piaciuta. Un excursus molto carino. E niente, mi viene da concludere la serata. Abbiamo finito i campionati, abbiamo sentito nuovi ospiti che ci hanno aglietato. Ringrazio infinitamente, Guè, alla nostra regia. Grazie a voi. Bella, Guè, mediocre. Grazie, grazie mille. Bando. Grazie, grazie a te Enno, grazie al Frambo. Che ha condotto con me. E Frambo e tutti gli ospiti che ci hanno chiamato. Grazie a te Enno. Ma vabbè, ma cos'è? Mandiamo l'ultimo pezzo e vi lanciamo la serata. Vi auguriamo un buon venerdì da Radio Etilica.